Buongiorno da Pasquale Bartolomeo e Veronica Duva di Cernia News. Abbiamo organizzato oggi nei nostri studi un primo confronto dibattito tra i candidati sindaci di centrodestra e centrosinistra, Giacomo D'Apollonio e Luigi Bresiello. Per il momento sono solo loro due i candidati sindaci ufficiali per il Comune di Cernia in attesa del deposito ufficiale delle liste che ci sarà domani a mezzogiorno. Partiamo con le domande subito. Abbiamo due minuti di risposta per ciascuno dei candidati sindaci. Cedo subito il microfono a Veronica Duva per il candidato sindaco del centrodestra, Giacomo D'Apollonio. Grazie. Da Pollonio, lei rappresenta sicuramente una figura nuova per la politica locale. Nei giorni scorsi si è discusso a lungo di chi sia stato ad invitarla a fare il passo in politica. Vuole chiarirci oggi chi è il suo sponsor politico? Allora, questa domanda già mi è stata fatta anche da persone vicine. Non esistono sponsor politici. Qui nasce in questa maniera, anche per le cose che mi hanno raccontato, perché io poi non conosco bene le dinamiche di dettaglio. Una persona amica, una persona a me amica, il cui nome è inutile di dire perché poi è una persona a me vicina, è stato il primo che mi ha lanciato questo messaggio. Evidentemente scaturito da una certa discussione tra varie persone dell'area di centrodestra che evidentemente cercavano qualcuno che potesse rappresentarli proprio dalle mie caratteristiche. Tant'è che, peraltro è apparso anche sui giornali, in un primo tempo si pensava a un altro figlio di questa città praticamente, che è impegnato fuori sede, posso fare il nome, che è Mario Dinizza, che è stato contattato. Mi risulta che sia stato contattato per proseguire in questa avventura. Evidentemente i suoi impegni istituzionali, il suo lavoro non gli permetteva di potersi impegnare più di tanto. E allora, tra i possibili candidati è spuntato il mio nome, quindi evidentemente come figura super partes, come persona da poter proporre. Ripeto, a me è stata richiesta una disponibilità generica per essere coinvolto in questa situazione. Per poterne parlare in sede di riunione, nell'ambito dei vari esponenti del centrodestra, per poterne parlare, doveva svolgersi in questa maniera. Cioè una discussione per vedere se il mio nome poteva in qualche modo riunire tutte le anime del centrodestra per una candidatura unica, cosa che poi effettivamente è avvenuta. Brasiello, lei invece da Presidente della Camera di Commercio è in qualche modo stato citato più volte come possibile candidato sindaco. Già nelle comunali del 2012 si dava per vicinissimo un suo accordo con l'Udc, poi non se ne è fatto più nulla. Alla fine ha scelto di correre quest'anno con il centro-sinistra. Vorrei sapere il perché di questa scelta e se ci chiarisce un attimo anche questa immagine che è passata forse un po' impropriamente, che la vedeva associata come figura istituzionale al Presidente Iorio, al Governo Iorio, che per anni ha guidato la Regione Molise. Ma sì, in realtà la mia è stata una scelta che viene da lontano. Non è stata una decisione dell'ultimo momento. Io già qualche tempo fa, ed in particolare alle comunali di un anno fa, avevo maturato la possibilità eventualmente di cimentarmi in un campo che non conoscevo, quello della politica. Poi alcune situazioni particolari mi hanno suggerito di fare un passo indietro. Questa volta invece ho pensato che fosse il momento di attivarmi nella politica. Non fosse altro perché vedevo la mia città praticamente morire di giorno in giorno. Ho scelto questa coalizione perché mi è sembrata quella un po' più vicina alle mie affinità. Il fatto di avere collaborato nel passato con lo stesso Presidente Iorio, con il Presidente Mazzuto, è stato secondo me un fatto importante che io voglio ribadire in questa occasione. Io ho collaborato con loro perché loro non solo rappresentavano delle istituzioni e io rappresentavo una istituzione, ma l'ho fatto perché sono riuscito a reperire risorse che poi ho utilizzato per le imprese del nostro territorio. Tra l'altro, voglio dire, è stata anche una collaborazione proficua in tutti i sensi, ma il sottoscritto non è mai stato iscritto o etichettato presso un partito. Io faccio parte di quella schiera di persone che guarda al futuro, che guarda con moderazione, che ha la consapevolezza che in un momento così particolare la propria città ha bisogno di un aiuto serio e concreto. Ecco, questa è stata la motivazione per la quale io ho deciso di fare politica. E non per ultimo, questa la voglio dire, la mia vicinanza, così si fa per dire, all'attuale governatore di questa regione, il quale è stato mio collega per tanti anni e quindi necessariamente ci siamo confrontati sui temi più vari, abbiamo avuto modo e occasione di stare insieme innumerevoli volte. Ecco, anche questa, insomma, amicizia mi ha spinto effettivamente a prendere questa decisione. Come si concilia il fatto che lei in passato è stato una figura, un uomo indivisa, in un certo senso abituato a dare ordini e che adesso possa calarsi nei panni di amministratori di un ente pubblico. E soprattutto c'è da aspettarsi un giro di vita in comune? No, assolutamente. Quello che è stata la mia vita è stata, perché ho prestato, ho dato tutto me stesso a un'istituzione dello Stato in cui ho creduto e in cui credo ancora. Mi sento sempre un uomo delle istituzioni, sempre un uomo dello Stato. Questa nuova veste che vado a ricoprire, andrei a ricoprire, è una veste del tutto nuova, impone un comportamento diverso. L'esperienza, mi piacerebbe invece, che le esperienze che ho maturato in queste istituzioni, sia in termini di preparazione professionale, sia in termini di rapporti con la gente, di rapporti istituzionali. Mi sono arricchito di tante cose in un percorso che è durato 40 anni. Spero invece di poterle metterle in questa nuova veste, giro di vite. No, giro di vite non se ne parla proprio, nel senso che andiamo a fare gli amministratori pubblici, c'è bisogno di ben altro. Qui l'investigatore non esiste più, non esiste più la figura dell'ingessata, dell'ufficiale, del militare. Qui esiste soltanto la figura della persona legata alla legalità, legata alla professionalità, alla trasparenza, all'onestà. Qui praticamente bisognerà garantire tutti i cittadini ad avere ciò che gli spetta, nel senso che bisogna finirla di continuare a pressare su cose che non spettano, di cui uno non ha diritto. Se c'è bisogno di qualcosa, se uno vanta un qualcosa a campo a un diritto, ed è legittimo, secondo me gli va data. Questa persona non dovrà chiedere un piacere a nessuno, non dovrà farsi segnalare, non dovrà spingere per premure di vario tipo. Se è un diritto, il diritto va esercitato, lo deve chiedere e basta. Se invece la cosa non è prevista, non esistono pressioni, nessun tipo di pressione che possa evitare che la cosa possa andare a buon fine. Quindi assolutamente le cose devono andare in questo modo. Questo è il mio pensiero, quindi niente più giri di vite, ma soltanto un'amministrazione chiara, limpida, trasparente e legale. Lei nella conferenza stampa di qualche giorno fa ha avviato la sua campagna elettorale dicendo di voler amministrare la città di Sernia in forte discontinuità con il passato. Tuttavia questo potrebbe essere un po' in contraddizione con il fatto della sua coalizione sulla falsariga anche del centro-sinistra di Frattura ha, come dire, al suo interno, almeno in via ufficiosa, le liste si sapranno soltanto domani, ha inglobato alcuni transfughi del centro-destra. Come si fa appunto a governare in discontinuità con queste persone? Ma intanto voglio dire questo. Intanto io conto di portare al Comune di Sernia figure nuove, diverse dal passato, per dare un'amministrazione, lo voglio ribadire, che stia in totale discontinuità con il passato. Quando io parlo di discontinuità faccio riferimento a 360 gradi, cioè la discontinuità è nelle cose, nelle persone, nei fatti, in ciò che si vuole fare. Il fatto di avere all'interno della coalizione una coalizione molto ampia che abbraccia sostanzialmente anche personaggi che oggi hanno magari rivisto le proprie posizioni e questo accade sempre, insomma, è sempre accaduto, è accaduto questa volta e credo che accada sempre. Si tratta semplicemente di trovare, di creare quegli equilibri che consentono alla città di andare in questa direzione. Se mai dovessi essere eletto sindaco, io queste cose le chiederò ad alta voce, le imporrò alla mia coalizione. Oggi il fatto di essere votati sindaco dai cittadini significa dare una forza non indifferente al primo cittadino ed è chiaro che il primo cittadino se ne deve assumere la responsabilità. Ecco, io credo che anche quelle persone, che sono persone che magari hanno anche un po' di esperienza politica e amministrativa, possono essere utili, sebbene utilizzate. Si tratta solamente di avere una regia sulla coalizione per fare in modo che non vengano fuori quelle brutture o quelle strutture che possono in qualche modo penalizzare la città, ma cogliere da ognuno di loro quelle positività che secondo me ci sono e che possono essere utili a questa città. In un comunicato stampa di qualche giorno fa ha precisato che la lista del sindaco non avrà connotati partitici, sì invece ai movimenti e alle liste civiche. Quali sono stati quindi i criteri che l'hanno guidata nella composizione della squadra Isernia in Comune? Sì, esattamente. Isernia in Comune è il nome della nostra lista civica, che ha un doppio senso. Sì, effettivamente noi qualche giorno fa abbiamo dovuto fare una precisazione, diciamo, un qualcosa perché mi erano state attribuite strane manovre, nel senso che nella mia lista sarebbero confluite persone che provenivano da partiti o comunque che sotto suggerimento di qualche personaggio politico, quindi questo è destituito da ogni fondamento, cioè la nostra lista nasce in maniera molto spontanea, abbiamo cercato la collaborazione di persone della società civile, gente che non ha mai masticato di politica. Abbiamo aperto però a persone che hanno avuto delle esperienze nella politica, ma appartenenti a movimenti, a liste civiche o a candidature autonome, queste andavano bene. L'importante è che non venissero rappresentate nella lista persone, personaggi politici legati strettamente a un partito, quindi non perché volessi prendere le distanze dai partiti che fanno il loro lavoro, anzi devo qui ringraziare perché sostengono, ma diciamo l'espressione di questa lista doveva essere ben chiara, ben connaturata, quella della gente comune, le esperienze sì politiche ma non partitiche. Questa è stata sin dal primo momento la nostra idea. Brasiello, inevitabilmente scatta una domanda sulla famosa manifestazione dei commercianti di qualche giorno fa, che ha avuto un buon successo, forti adesioni da parte degli esercenti sernini, tuttavia le polemiche non sono mancate, qualcuno dice la tempistica non è stata assolutamente quella giusta perché Brasiello, in qualità di presidente di Camcom, avrebbe dovuto attivarsi contro la crisi da prima di scendere in politica. Io rispondo facilmente a queste affermazioni. Allora, intanto questa era una decisione presa già da tempo. Peraltro chi più di me forse può conoscere le problematiche, i problemi in cui sta versando in questo momento il commercio qui a Disernia. Voglio ricordare a tutti voi e a me stesso che io sono commerciante e quindi tocco con mano le difficoltà di questo momento, le aziende che praticamente se dovesse continuare così veramente non ce la possono fare. Noi avevamo già da tempo deciso di fare questa iniziativa, iniziativa che peraltro, attenzione, è stata messa a punto da un gruppo di commercianti. Tant'è vero che quando ci siamo regati giù al Comune sono state le associazioni di categoria che hanno in qualche modo fatto da tramite con il commissario al quale abbiamo chiesto alcune cose. Io non mi sarei mai tirato indietro per una manifestazione di questo tipo e se dovessi rifarla la rifarei così come l'abbiamo già fatta. Perché in quel momento io ero commerciante di questa città e come commerciante ero consapevole delle difficoltà. Per cui non fa nulla se la manifestazione è stata strumentalizzata. Me lo aspettavo, è ovvio che me lo aspettavo, fa parte della politica. Mi hanno spiegato un minuto dopo che questa è la politica. Per cui non è questo il problema. In quel momento io avevo a Mende nel mio cuore le sorti del commercio a Disernia, l'ho fatto e lo rifarei. E in quel momento si era già autosospeso da Presidente di Camcom? No, allora vi do una notizia. Io oggi ho avuto il Consiglio Camerale per cui da lunedì praticamente il Vice Presidente mi sostituirà nelle funzioni di Presidente di Camera di Commercio. In realtà l'ho fatto perché presentandosi le liste domani a mezzogiorno da lunedì non posso più svolgere le mie funzioni. Da Pollonio ha deciso di scendere in campo a patto però della ricompattazione della coalizione di centrodestra. Un'impresa che inizialmente sembrava impossibile. Invece successivamente si è assistito in un certo senso al riallineamento di Raffaele Mauro che tuttavia non si candiderà e a quello di Gianni Fantozzi che avrebbe dovuto correre in solitaria. L'anello mancante quindi sembra l'Udc di Mimmoizzi. Ritiene che fino a domani, giorno in cui si presenteranno le liste, possa ancora succedere qualcosa? Ritengo che ormai i giochi sono fatti. Aspettiamo di avere l'ufficialità delle liste per poter tirare un po' le somme di tutto questo lavoro che è stato fatto in questi giorni. Abbastanza frenetici devo dire. Per quanto riguarda la prima parte della domanda, cioè della compattazione, se così possiamo dire, delle anime del centrodestra, effettivamente devo dire che c'è stata una grandissima sensibilità, c'è stato un lavoro di tutti i partiti che fanno parte della coalizione per far convergere sul mio nome i consensi da parte di tutti. C'erano sicuramente delle personalità di spicco del mondo politico di centrodestra che avevano delle legittime aspirazioni, ritengo. Cioè quando si fa un percorso politico, quando c'è una base elettorale, quando si fanno dei progetti e si trascorre buona parte della sua vita, della propria vita su questo terreno, è chiaro che delle aspettative ci sono, in dubbio. Quindi le riesco a capire certamente. Anzi, devo ringraziare queste persone con cui ho potuto parlare poi successivamente per il passo indietro che hanno fatto, perché hanno sacrificato, diciamo, un pochettino, forse una parola forte, alla ragione di Stato, invece, la loro candidatura. Quindi veramente devo ringraziarli. Effettivamente Raffaele Mauro immediatamente ci ha dato la propria disponibilità, il proprio consenso, anche se poi non scende in campo direttamente, quindi però ci sostiene in maniera forte. Abbiamo fatto il nome di Gianni Fantozzi che ha avuto una vicenda personale nell'ambito del partito particolare che mi ha dimostrato immediatamente la propria disponibilità, il proprio impegno. Al di là di quello che si diceva sui giornali, lui immediatamente ha ricondotto la situazione nei giusti ambiti. Questo mi riempie di soddisfazione. Così altre persone di cui si è parlato sulla stampa, questo mi ha riempito di grandissima soddisfazione perché evidentemente potevo rappresentare quella figura istituzionale che potesse veramente mettere d'accordo tutti, quella persona supertapartes che potesse da mettere d'accordo tutti. Sempre nella conferenza stampa di qualche giorno fa c'è stata la presentazione, una riproposizione, anzi di una lista civica che ha fatto la storia della politica di Sernia che è quella del Ponte. Un progetto che nel 1993 apriva un po' a tutta la sinistra e da cui nascevano gli anni d'oro di questa coalizione con Marcello Veneziale, prima sindaco, poi governatore della Regione Molise. Oggi su questa riproposizione ci sono però due punti di domanda. Il primo, Peppino Laurelli che adesso è rientrato in questo progetto, tre giorni prima del lancio del Ponte da Facebook l'aveva criticata duramente dicendo che sempre per la manifestazione dei commercianti c'era stata strumentalizzazione. Poi tre giorni dopo quasi folgorato sulla via di Damasco è ritornato a casa con gli amici di un tempo. Il secondo punto di domanda è che uno dei padri nobili del Ponte del 1993, Alberto Gentile, oggi sulla stampa critica questa operazione anche egli molto duramente parlando di centrodestra camuffato a centrosinistra. Come intende rispondere? Ma allora, io sono stato molto chiaro nei confronti della mia coalizione e ho detto che se vogliamo vincere queste elezioni dobbiamo allargare quanto più possibile la base elettorale. Quello che è accaduto per la Costituzione della lista del Ponte o perlomeno presunta tale perché tra l'altro non so nemmeno come si chiamerà stanno credo lavorando in queste ore queste sono ore frenetiche insomma le ultime ore voi me le insegnate sono quelle che poi risultano forse determinanti anche per la vittoria finale. Devo dare atto a queste persone insomma quindi da una parte i Sernia Viva dall'altra alcuni esponenti dell'Italia dei Valori di avere avuto quella sensibilità quella maturità per fare un passo indietro. Ecco a volte capita anche questo la politica fa un passo indietro in questo caso è accaduto proprio questo hanno capito che era necessario combattarsi se si vorrà ottenere un risultato positivo hanno capito che era necessario fare fronte comune e entrambi hanno fatto un passo indietro e credo che stanno lavorando a una bella lista civica che conterrà all'interno quella esperienza che era stata di qualche anno fa al Comune di Serdi e che era stata un'esperienza positiva per questa città. Quindi io sono ben lieto insomma che questa cosa sia avvenuta. Poi voglio dire al di là di quelle che sono le polemiche questo è un altro fatto che mi hanno spiegato io da neofita della politica mi hanno detto non di preoccupare perché questa è la politica quindi io già un minuto dopo avevo dimenticato quell'articolo su Facebook sono cose normali che sono sempre capitate capitano e capiteranno l'importante ecco è tenersi tutti quanti vicini e cercate di vincere questa tornata elettorale. Gentile invece? Ma Alberto è un caro amico è veramente un caro amico tra l'altro ha candidato pure il suo cane quindi immaginiamo un pochettino insomma no vabbè lui è per indole un po' così come dire polemico diciamo questa cosa però è una persona seria capace anche lui ha fatto parte della storia di questa città quindi io sono sicuro insomma che sarà con noi. Allora ci avviamo alla conclusione prima però di chiudere avrei un'ultima domanda questa volta sarà la stessa per tutti e due i nostri ospiti allora dato che comunque si è venuto a verificare un episodio molto particolare in questa campagna elettorale cioè una polarizzazione dello scontro tra i due blocchi centrodestra e centrosinistra ma il grande assente invece è quello del Movimento 5 Stelle quindi mancherà questo rappresentante diventato così forte a livello nazionale come pensano i due candidati sindaci di intercettare quello che viene considerato il cosiddetto voto di protesta che di solito va verso questo movimento e se appunto con la proposta è possibile convogliare anche la protesta verso queste due coalizioni comincerei dal candidato sindaco ma io abbiamo fatto una lista civica io poco fa c'è stata la domanda su quello che abbiamo fatto che voleva proprio vuole significare proprio questo cioè percorriamo un percorso legato alle esigenze delle persone della gente qui protestare sì è importante protestare vuol dire far arrivare il proprio segnale per far capire che qualcosa deve cambiare quindi la protesta l'immagino sempre costruttiva questa protesta però potrebbe essere raccogliere adesso dei consensi per poter fare qualcosa insieme chiaramente è importante i partiti fanno il loro dovere portano avanti un progetto e devo dire per quanto mi riguarda che mi stanno sostenendo con tutte le forze e quindi non posso che ringraziarli stanno facendo un ottimo lavoro per quanto riguarda gli altri gli scontenti la proposta potrebbe essere una lista civica come la nostra che potrebbe raccogliere queste persone che non si rispecchiano nel partito ma che comunque vogliono far sentire la loro voce ma appena qualche mese fa il movimento di Grillo insomma ha avuto un risultato secondo me incredibile a livello nazionale credo che a livello locale le amministrative sono un'altra cosa sono elezioni di tipo diverso alle amministrative forse la gente è portata a guardare più i candidati o il candidato sindaco il fatto che assente al comune di Sede almeno così sembra assente una lista guidata una lista con i grillini probabilmente può significare un vantaggio per entrambi gli schieramenti si tratterà di capire quali dei due riuscirà a convincere queste persone che sono persone che sostanzialmente contestano ma che poi alla fine non fanno nemmeno delle proposte cioè quello che è accaduto a livello nazionale è significativo insomma c'è stato qualche giorno fa il test su una regione italiana e si è visto come addirittura si sono dimezzati quindi questo ha significato che la gente si premia colui che in qualche modo contesta in un momento particolare ma poi vuole le soluzioni cioè la gente vuole le soluzioni vuole la protesta ma vuole le soluzioni motivo per il quale credo insomma che entrambi gli schieramenti saranno avvantaggiati e si tratterà di capire quali dei due schieramenti sarà più capace a intercettare questo elettorato bene abbiamo concluso il nostro confronto sui Sernia News ringrazio i nostri ospiti ringrazio la collega Duva Veronica Duva e ci diamo appuntamento ad un altro confronto che organizzeremo sicuramente nei prossimi giorni grazie a tutti